Scoppiamo i piedi! Certe volte sono divertenti, certe volte sono molto difficili. Io lo trovo anche giusto che a volte si arrabbino. Dice buongiorno, alcune volte ciao e sì. Ti dice che cosa devi fare. Spiega. Queste persone mi piacciono tutti. Sono le persone che danno un futuro. Quando sei grande scoprirai che l'hai fatto... Cioè, quella persona ti ha aiutato molto. Scoppiamo i piedi!